hola dovrei essere in diretta che piacere di trovarmi sempre un veramente un onore passare queste serate insieme veramente benvenuti fatemi sapere se mi vedete se mi vedete bene se mi sentite magari scrivendo nei commenti che tutto funziona correttamente oggi come ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta per intervistare i maggiori esperti italiani di crescita personale spirituale sono degli incontri interattivi quindi in qualunque momento della serata qualunque condivisione senti di fare o domanda che senti di porci fallo pure nei commenti saremo super felici di leggerti e di risponderti e arriviamo all'ospite di stasera perché anche stasera ho un ospite speciale che abba valentina lo sud quindi reporter conduttrice televisiva e viaggiatrice di professione potremmo dire quindi diamo il benvenuto ad abba ciao suria evviva ciao ma che meraviglia che bello che bello grazie per esserti venite a noi in questa diretta veramente super piacere my pleasure che bello dai per chi non ti conosce io faccio una leggerissima introduzione tu oltre appunto ad essere conosciuta come conduttrice per la rai di programmi musicali sei anche una reporter di cammini che fai sia in italia che nel mondo è veramente raccontato storie penso quasi da una grossa fetta di questo mondo dall'india dal nepal australia il messico veramente di tutto al marocco le maldive peruve chi più ne ha più ne metta possiamo andare dei lati del mondo e tu hai raccontato storie da questi luoghi e le tue storie vengono pubblicate su tanti giornali anche importanti non lì planet italia marco polo le frecce il vero di repubblica l'espresso veramente hai fatto anche svariati podcast pubblicato anche un podcast della rai e veramente hai creati riuscita a creare una realtà su quella che una tua passione questa di fare i cammini no e sei diventata proprio anche ambassador per turisti per caso italia slow food sei testimonial della community cosa rete nazionale donne in cammino ragazze in gamba quindi tutte queste realtà che riguardano i cammini anche soprattutto in italia è proprio nei tuoi reportage riesce a coniugare da un lato quelle che sono appunto le altre tue passioni no la musica la comunicazione benessere la crescita interiore a quello che invece poi sono altre tue passioni come l'indagine antropologica sociale umanitaria fai vai molto a lavorare anche proprio con le culture originali no le antiche tradizioni del mondo quindi andiamo al dunque perché veramente mi piace trarre in massa questi incontri e in questa diretta vorrei parlare di questi cammini come metafora no nella fine come metafora della vita come strumento di crescita interiore di crescita personale spirituale no anche andiamo a vedere anche un po di consigli pratici magari qualcuno che vuole avventurarsi in una di queste esperienze no quindi partiamo un po dal principio cosa ti ha portato diciamo da dal mondo della musica perché tu alla fine da là in qualche modo si è partita anche da là a invece poi camminare oltre otto mesi l'anno è ed è una scelta importante anche che tu repiti anche importante nel senso che cammini so che hanno un significato particolare per te allora diciamo che forse sei così ben informato perché dobbiamo subito ricordare che la tua mamma ha camminato con me la scorsa estate come una mazza è proprio vero è proprio vero che organizzi ogni tanto anche camminate in cui possono accompagnarti altri è vero è stata è stata bravissima e quindi lei anche ha potuto testimoniarti e sono davvero felice e grata a lei a te che vogliate eh in Sauton dedicare anche uno spazio ai cammini e in particolare a te Surya alla relazione tra cammini e spiritualità perché perché effettivamente è una relazione molto forte cosa mi ha spinto mi ha spinto in fondo la stessa ragione per cui sono una musicista cioè l'ascolto e è un ascolto diverso Surya perché eh sai l'ascolto che può essere l'ascolto della musica quindi che passa attraverso le orecchie è un ascolto eh che sicuramente anche molto spirituale ehm sappiamo perfettamente quanto la musica può avere un un impatto letteralmente sulla nostra mente anche sul nostro corpo ma soprattutto sul nostro spirito e invece l'ascolto che io ho imparato ad apprendere in cammino è un ascolto che parte dal corpo e ti devo dire noi abbiamo anche condiviso tanto di un percorso spirituale che 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 è infinito che io ho portato tanta meditazione nel gesto del camminare quindi la passione per l'ascoltare proprio aprire i sensi per percepire ciò che stiamo facendo ingrandendo ogni momento quindi sai c'è tanto che è stato anche scritto delle famose camminate zen queste camminate a rallentatore naturalmente per fare tanti cammini non posso camminare a rallentatore ma che cosa succede letteralmente dopo poche ore che sei in quella dimensione in cui non devi arrivare non devi fare nulla devi solo camminare cambia dentro di te qualcosa e accade che cominci ad ascoltare e quindi a percepire molto di più te stesso molto di più quello che ti circonda tutte le tue difficoltà tutte le tue scomodità cominciano ad emergere e il cammino diventa una grande metafora un grande specchio di quelli che sono i nostri limiti le nostre paure cominciamo dal dire suria che una cosa che mi piace molto ripetere è che la dimensione del nostro zaino è proporzionale alla dimensione delle nostre paure e quindi questa te la puoi portare per tante altre cose poi lo zaino naturalmente è una metafora il cammino è una metafora nel cammino tu attraversi letteralmente tutte le esperienze della vita quindi la paura ancestrale magari di incontrare degli animali e che cosa sono gli animali l'ignoto e quindi sai una delle cose che mi chiedono di più è ma come fai a camminare da sola perché a me piace anche tanto camminare da sola non hai paura del cinghiale numero uno citato da tutti la vigora numero due e poi i cani randaggi e di qua e di là e di giù in realtà sono tutti gli animali degli specchi molto potenti perché quando tu attraversi nella natura fai un cammino attraversi un bosco incontri degli animali e sei rilassato e a me che sono capitate tante situazioni che potrebbero letteralmente spaventare molte persone mi è capitato di avere un branco di mare in mani cani bianchi grossi da pastore che mi sono corsi addosso non lo auguro a nessuno ma vi posso garantire che se sei rilassato e se dentro di te questa sensazione di io sono qui in pace sto solo attraversando il vostro territorio grazie che mi fate passare questa predisposizione crea un effetto intorno a te di grande protezione e io ho visto la reazione di questi animali una reazione di difesa che poi si trasforma in una reazione di accidenti ma questa persona si muove in maniera diversa è semplicemente il rilassamento quindi essere rilassato di fronte all'ignoto di fronte alle paure e ogni volta che c'è una scomodità una salita una discesa sei stanco eccetera osservare cominciare a creare anche una attenzione selettiva su quei punti che ti danno fastidio perché non è tutto il corpo che sta male magari è un ginocchio sono i polmoni del fiato o il piede comincia a comprendere che non sei tutto scomodo ma è solo una parte e allora scegli magari di non concentrarti solo su quella parte ma magari di aprire lo sguardo al tutto che ti circonda quindi potrei andare avanti su tanto su questo perché ogni passo letteralmente del cammino è una metafora del cammino della vita affidarsi avere fiducia che nulla di male ti potrà succedere ricordandoci alcune regole base come ad esempio che l'europa è l'ecosistema più sicuro del mondo in particolare nei paesi isalia spagna dove attraversare tantissimi cammini letteralmente non esistono pericoli che bisogna poi sapere un po' di cose una vipera non potrà quasi mai essere mortale perché quasi mai inietta totalmente il suo veleno lei lo sa che deve deve darne poco quindi avere delle nozioni giuste magari cominciare a fare un cammino con qualcuno un po' più esperto e poi aprirti a questo senso di fiducia cosa di male ti può succedere potrai essere mai derubato se non hai niente da proteggere e quindi da lì suria si aprono le metafore si aprono le chiavi di lettura ed è un'esperienza questa di coraggio proprio di mettere il cuore in azione passo dopo passo che io auguro a tutti meditanti o anche magari attraverso il cammino scopriranno coloro che non hanno mai meditato che la meditazione in realtà tu lo sai molto bene è più uno stato fisico che uno sforzo mentale e questo passo dopo passo bellissima bellissima i cammini sono veramente delle esperienze meravigliose io ho fatto otto anni da boy scout quindi lì i cammini era una cosa molto comune nel corso dell'anno in tutte le avventure che si facevano oltre a passare tutte le state in montagna dove facciamo spesso camminate con la mia famiglia e l'ho sempre trovata delle esperienze proprio meravigliose ma anche proprio di c'è anche soprattutto quando raggiungi quel limite come tu descrivi prima no arrivi a quel punto che effettivamente sei stanco se io mi ricordo avevo potuto avere cinque anni o qualcosa del genere mio primo cammino proprio lungo in montagna un po più impegnativo quindi era un pochino più grande età e mi ricordo quando raggiungi quella consapevolezza di quando raggiungi un quel momento di rottura che sei stanco se arrivi al punto che sei stanco a volte ci succede nella vita no che arrivi proprio a quei momenti che le difficoltà lo stress i problemi ti portano a quei momenti che sei quasi per rompere diceva io ora ora mi putto a terra non ho più forza e basta poi da lì ora sorge qualcosa di nuovo io questo ho sempre trovato un'esperienza straordinaria dei cammini che ti accorgi che di avere delle risorse che forse prima erano nascoste non sapevi di avere ed escono fuori in quel momento no sì perché il cammino in realtà è un'esperienza da abbracciare integralmente e dietro è un po' è un po' anche simile a quello che può accadere con il senso della fame di cui tua mamma parla moltissimo in realtà sono dei picchi che durano mezz'ora se passi quella mezz'ora in cui ti sembra di avere fame poi ti si apre un nuovo scenario la non fame il fatto che ti sei anche abituato a tra virgolette superare la fame e quindi ecco quel picco di crisi che ti può presentare una una salita io lo dico sempre attraversalo magari rallenta il ritmo magari poni l'attenzione su altri elementi e vedrai che senza che te ne accorgi quella fatica svanisce perché molto probabilmente era molto di più un peso nella mente che un peso nel corpo e quindi è un gioco straordinario di equilibri tra il corpo che dimostra la mente di essere passo dopo passo più forte e la capacità che hai proprio di fare switch tra questi due comandanti e di portare sempre più attenzione nel corpo il corpo significa anche respirare significa anche vedere quindi portare l'attenzione intorno a quello che ti circonda significa anche sentire il sudore significa anche avere la percezione che le tue gambe stanno diventando più forti io ho 46 anni e camminando ho acquisito molta più forza di quanto ne avessi 20 anni fa e sono sempre stata sportiva ma è vero questo perché camminare fortunatamente ci sono tantissimi studi su questo è l'attività più naturale in assoluto un cammino oltretutto non è esattamente un trekking per cui non necessariamente ci sono delle ammazzate micidiali ogni tanto c'è l'ammazzata però in realtà attraversi tante situazioni ti becchi l'asfalto se devi andare in un paese ti becchi la mulattiera magari sotto il sole ti becchi la salita a montagna se devi passare nella valle subito dopo eccetera ma l'importante è appunto accogliere tutto quello che accade e quanto più possibile anche porti in osservazione di te come mi sto comportando di fronte ai miei bisogni primari sono con suria e sto camminando con suria lui non ha portato il cibo io ho una sportina con un pezzo di frittata quanto frittata condivido con suria le da un pezzettino la divido a metà e gli dico prendi quello che vuoi quindi ti mette di fronte anche a veramente a dove sei dov'è il tuo livello di coscienza perché la fatica l'avere uno zaino in cui c'è tutto tutto ma niente in fondo ti mette di fronte veramente a quell'essenza e appunto non c'è bisogno di avere fatto un percorso spirituale ma in ogni caso è un percorso spirituale camminare ti stavo dicendo e ti lascio poi subito anche la palla perché sono sicura che hai tanto anche da da chiedere che ci sono tanti studi scientifici sulla importanza del integrare il movimento camminato nella nostra vita ci sono personaggi straordinari ne cito uno come andrea spinelli che a cui è stato diagnosticato un cancro tremendo che gli dava pochi mesi di vita lui ha cominciato a camminare perché non aveva nulla da perdere e continua a camminare da anni e anni e anni il suo cancro non è svanito ma si è arrestato quindi adesso non siamo medici non possiamo non possiamo approfondire queste tematiche ma ce ne sono tantissimi di casi in cui studiati scientificamente attestati sui libri di studio il camminare crea una condizione veramente di di benessere molto molto speciale quindi a livello mentale a livello fisico è un'attività talmente naturale e talmente graduale che diventi sempre più forte non allenandoti in panestra in palestra andando a camminare ma semplicemente giorno dopo giorno camminando 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 bellissimo bellissimo molto bello come lo descrivi no questa modalità con cui effettivamente camminando riesci anche osservate essere più consapevole no di tante cose che accadono nella tua mente nel tuo corpo a livello emotivo no alla fine un po come una meditazione mi ricorda vagamente quasi proprio come una forma quasi di meditazione no camminare in fin dei conti molto molto bello immagino che sia uno dei tanti regali che tu hai avuto nel senso da questa esperienza ormai sono svariati anni che le fai sicuramente appunto alcune già le descritte non so se c'è qualcos'altro che ci vuoi condividere su quali possono essere magari i regali più importanti che hai ricevuto in questi anni da quando hai iniziato a dedicare più tempo a questi cammini sì allora io appunto nasco come ascoltatrice ecco quindi la musica ascoltare le storie delle persone ascoltare quello che accade e quindi sono una viaggiatrice per forza di cose e ho sempre fatto tanti viaggi e ho sempre amato molto viaggiare a piedi ma l'esperienza un cammino è una cosa diversa per cui non è un viaggio in cui ogni tanto cammini ogni tanto prendi un autobus ogni tanto un treno un aereo o affitti una macchina l'esperienza un cammino è che cos'ho io ho uno zaino con il famoso suria quello che dico io il due di tutto due mutande due calzini due maglietti punto perché non ho bisogno di niente oggi mi metto la maglietta che ho indosso stasera la lavo e il giorno dopo uso quell'altra mentre quella quella di prima si asciuga quindi è veramente andare all'essenza delle necessità del bisogno aprirsi alla vita perché se non abbiamo niente letteralmente abbiamo tutto non abbiamo come si diceva niente da proteggere niente da difendere e quindi possiamo letteralmente buttarci nel mondo addirittura se necessario mi è anche capitato a me dormire per strada è stato ecco ti vengo già a citarti un esempio ho un paio di storielle quasi zen che ti vorrei condividere vita vissuta sai si fa tante esperienze all'inizio quando ho iniziato a camminare da sola naturalmente tanti segreti non li conoscevo come come trattare i miei piedi come trattare i miei tendini quindi fare attenzione a camminare più leggera sull'asfalto e tante altre cose che all'epoca ti parlo di quando ho iniziato a camminare seriamente 2017 2018 non badavo e quindi mi sono anche fatta del male vesciche pazzesche piedi che non erano in grado di mettere due passi uno dietro l'altro mi succede un'esperienza del genere mentre eh mancavano pochissimi chilometri al mio arrivo al mare sull'oceano atlantico stavo facendo mille chilometri partita dall'inizio dei dei pirenei il cammino della costa nord della spagna eh e che arrivava fino a finisterre la fine del mondo eh mi mancava veramente poco ma avevo veramente un problema a un tendine mi faceva molto male un un piede e e quindi arrivata in un piccolo paese decido di per la prima volta in vita mia di dormire per strada eh c'era una panchina ho detto qui io mi devo fermare non c'erano non c'erano alberghi non c'era niente anzi alberghe in spagnolo vuol dire ostelli quindi sai quando si cammina si va molto sull'essenziale e decido di accasciarmi su una panchina ero in una situazione abbastanza protetta perché c'erano di fronte delle case appena esce la signora dal portone di fronte alla mia panchina io le vado incontro e dico signora che ne dice se dormo qui va bene io purtroppo ho un po' di male e lei dice no guarda tranquilla ci siamo noi dormi serena quindi mi comincio a preparare questo fagotto un po' da barbone e immaginate che queste sono cose che veramente possono accadere e sai fai presto a prendere un un taxi chiamare cioè potresti uscire da questa esperienza ma il bello invece è arsare tutto quello che ti accade con la massima fiducia tanto che ho 10 euro in tasca che mi può succedere e dopo io quindi mi sono rilassata mi sono accasciata ho dormito una riposato una mezz'ora dopo questa mezz'ora la signora scende con una banana con un po' d'acqua insomma mi guarda negli occhi mi dice ma tu potresti essere mia figlia sali su e mi ha fatto dormire nel letto di sua figlia che era una musicista spagnola una cantante esattamente mi ha vestito con un pigiama dice guarda mettiti una cosa comoda e mi ha dato la maglietta del gruppo della figlia che aveva appena partecipato x factor spagna e quindi ho poi praticamente ho detto ma io voglio aiutare la tua figlia insomma poi ho un po' promosso anche così spontaneamente questa storia l'attività della figlia eccetera vedi come c'era un filo poi incredibile che ci legava e ci siamo scritte dei messaggi siamo rimasti in contatto e questa questa fiducia reciproca che 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 si incontra lungo il cammino per cui la parte attiva del cammino non è soltanto chi cammina ma anche chi riceve il cammino le persone che vedono camminare vedono una barbona mi guarda negli occhi e mi fa dormire non nel giardino perché aveva un giardino ma nel letto di sua figlia questo è quello che può accadere in cammino se ti apri alla fiducia molto bello molto interessante no bello anche tu sostanzialmente descrivi anche le no le tante difficoltà che ci sono di tanto in tanto quando si incontra quando si segue un cammino perché appunto non è sempre facile è comunque un'esperienza sfidante ma proprio per quello poi un'esperienza di crescita perché alla fine finché non usciamo dalla nostra zona di comfort da dove siamo comodi nelle nostre abitudini piccole è difficile andare magari a rompere tutti quelli quelli piccoli problemi che abbiamo dentro contrazioni cosa che ci porta i pesi che ci portiamo dietro è molto interessante il non so il dubbio penso che possa venire a qualcuno che ti ascolta e dire ok ma se ci sono tante difficoltà è un'esperienza che veramente chiunque può fare o secondo te non lo so e ci sono persone che non possono riuscire a fare questa esperienza che addirittura magari magari temono di non riuscire a camminare così a lungo quando parli appunto di tutte queste dimensioni nord della spagna di una camminata lunghissima no allora sicuramente tutti possono fare un cammino io voglio salutare se marisa ballardini sarà all'ascolto di questa conferenza di questo incontro con tutto il cuore loro lei il marito giulio sono gli i camminatori mitici più mitici d'italia hanno cinque anni tutti e due qualcosa così adesso hanno più hanno meno loro camminano hanno camminato tantissimo forse se possibile anche più di me e hanno fatto negli ultimi anni letteralmente tre quattro cammini l'anno io faccio 30 chilometri al giorno 20 25 30 40 50 ho fatto anche l'esperienza arrivare fino a 60 chilometri al giorno ma proprio per arrivare a comprendere l'esperienza fisica anche del cammino e c'è una fase in cui il camminatore vuole in qualche modo mettersi anche alla prova poi sono retrocessa perché ho capito che il senso non è nella performance è stato interessante il mio corpo è cambiato completamente sfidandomi in camminate incamminate dai quattro di mattina alle dieci di sera ma poi sono rimasta sull'idea che il cammino va fatto letteralmente passo dopo passo gustato passo dopo passo marisa e giulio invece di fare tappe da 30 chilometri le fanno da 15 da 10 quindi è molto importante preparare bene il cammino scegliere il cammino giusto chiedere consigli io sono naturalmente disponibile adesso poi sta partendo anche il mio canale youtube il mondo di abba dove ho già pubblicato il primo video su come si fa lo zaino primaverestà anzi uno zaino estivo uno zaino primaverile quindi essere in contatto con qualcuno di autorevole nel mondo dei cammini siamo tante persone c'è la casa editrice terre di mezzo che pubblica tutte le più autorevoli guide di cammini e bisogna quindi magari scrivere su un gruppo facebook del cammino tutti i cammini hanno i loro gruppi facebook del cammino che uno sceglie di fare è molto importante dunque calibrare il proprio cammino in base alle proprie possibilità faccio subito un esempio un cammino eccellente è il cammino di europa che è un cammino di quattro giorni che è gradualissimo prima primo giorno 200 metri di dislivello secondo giorno 400 metri terzo giorno 800 quinto o 6 6 6 800 non ricordo quarto giorno si ritorna indietro in e-bike ti fai tutti quegli 80 chilometri divertendoti un sacco con le e-bike ed è un cammino molto bello molto graduale che nella nella zona di biella quindi in piemonte una zona poco conosciuta è un cammino di grandissimo successo quindi iniziate con un entry level un cammino che sia graduale che sia magari non troppo lungo magari decidete di farlo in compagnia è molto molto importante quindi scegliere il cammino giusto affidarsi a delle persone che abbiano avuto già delle esperienze sono tantissime vi basterà anche scrivere sulla vostra pagina facebook voglio fare un cammino qualcuno mi può dare consigli e poi piano piano capire se quei consigli funzionano a fare un po di confronti cercare comunque un contatto con qualcuno come posso essere io ma possono esserci sicuramente grandi riferimenti magari qualche nome lo faccio sicuramente simone frignani è il primo che mi ha introdotto nel mondo dei cammini ed è il creatore del cammino di san benedetto del costo italia costu cost costu costa è dal dal dall'adriatico al tirreno il cammino san benedetto è umbria e lazio è l'autore anche della guida della via degli dei famosissimo cammino da firenza bologna un po più tostarello diciamo ma è molto hippie molto simpatico molto frequentato il più frequentato cammino in italia soprattutto dai giovani e poi ha fatto anche una guida di un cammino molto lungo di mille chilometri che è la via romea strada quindi simone è una garanzia simone frignani poi c'è alberto renzi che è il mio primo grande amico del mondo dei cammini suria do qualche informazione perché penso ma è bello sapere come organizzarsi è veramente fondamentale quindi alberto alberto renzi è il mio primo grande amico del mondo dei cammini peraltro è stato lui a mettermi in contatto con queste persone che adesso vi cito e lui è tra i costruttori del cammino nelle terre mutate un cammino di testimonianza sociale che si fa dalle marche attraversando l'umbria il lazio fino all'abruzzo e andando a testimoniare la faglia del terremoto del centro italia per cui un cammino straordinario in cui anche la microeconomia che noi muoviamo con i nostri passi veramente dà un contributo eccezionale per capire che cosa sta succedendo all'indomani dei terremoti che hanno sconvolto zone come amatrice l'aquila ussita le marche norce eccetera quindi cammino nelle terre mutate un altro must poi c'è la sicilia molto forte grazie al trio davide comunale con irene e salvo un trio straordinario che hanno mappato le vie francigene di sicilia tra cui celebre il cammino cosiddetto magna via francigena da palermo a da palermo ad agrigento io ho fatto anche messina palermo a piedi che sono quattrocentotrenta chilometri mi sembra quello io l'ho fatto bellissimo quello l'ho fatto molto bene cosa hai fatto tu l'ho fatto con gli scout con gli scout un anno siamo andati sì sì non so se non mi ricordo se l'ho finito interamente ma ho fatto sicuramente una grossa fetta per camminare a lungo che meraviglia che bellissima bellissima ho dei ricorsi bellissimi con l'esperienza fantastico poi c'è la sardegna naturalmente l'abbiamo vissuta con mamma il cammino minerario di santa barbara è tra i cammini più stupefacenti che abbia mai fatto in vita mia veramente fatelo tutto l'interno come la costa non state solo al mare l'interno è persino più bello e venendo ancora qualche altro consiglio alberto conte un altro grande nome il costruttore del cammino di europa appunto uno dei principali mappatori di cammini in italia ed è stato tra l'altro l'autore dell'attuale mappatura del cammino più famoso in assoluto che la via francigena quindi alberto una grandissima autorità e facciamo tantissimi anche tante tanti abbiamo tanti progetti in cantiere insieme altri due nomi per concludere un po una mappa angela seracchioli che ecco lei che ha dato avvio al movimento dei cammini tematici in italia perché i cammini hanno un tematismo che che va raccontato passo dopo passo quindi senz'altro eh angela seracchioli è stata con lei che ha creato il primo cammino tematico dell'italia moderna dedicato a san francesco il di cui passò francesco da laverna fire ehm toscana fino a poggio bustone lazio il suo diciamo proseguimento per un totale di novecento chilometri sino a monte sant'angelo località che conosci benissimo in puglia novecento chilometri dedicato a san francesco passi san francesco e passi sulla via mica elica diciamo così che si chiama con le ali ai piedi cammini francescani ce ne sono tantissimi gigi bettine un altro personaggio molto autorevole che ha costruito tutta una rete di cammini dedicati a francesco in toscana umbria e lazio e poi ci sono dei movimenti enormi e che adesso è difficile citare tutti ma per esempio il sud il sud si sta sviluppando tantissimo pensa suria che in questo mese è in pagina sulla freccia il giornale che leggiamo sui treni italiani freccia rossa freccia argento freccia bianca io scrivo sulla freccia il mio reportage in cui ho mappato i cento cammini eh più affermati d'italia parliamo del paese l'italia con la maggiore curva di crescita eh sia turistica che in prospettiva anche economica di cammini sono talmente tanti gli amici del mondo dei cammini che non li posso citare tutti però voglio ricordare che per esempio anche c'è un personaggio molto importante che si chiama Paolo Piacentini e lui è il consigliere del ministro Franceschini per il mondo dei cammini perché faccio questa come dire questa citazione di politica perché per fortuna eh magari parlare di spiritualità magari parlare di meditazione suona sempre molto esotico per fortuna il il camminare è un modo anche per sdoganare ehm un un andare lento nella propria vita che magari uno legge sotto forma di movimento sport trekking natura turismo eccetera ma nella sostanza noi veramente stiamo aiutandoci in un processo di di guarigione a tanti livelli che meraviglia no certo veramente tante informazioni interessanti anche bello tanti riferimenti poi domani verrà pubblicata la registrazione quindi chiunque li potrà anche riascoltare perché è interessante hai detto tanti nomi di persone di cammini di anche bello perché avendole citate tanti si può anche già tra questi iniziare a cercare qualcosa che ci può piacere o ispirare o hai detto anche tante cose su come organizzarsi tanti consigli pratici no di chiedere consiglio come strutturare il cammino come trovare il cammino giusto che è molto importante sarebbe interessante anche capire come prepararsi al meglio non solo organizzare il viaggio no ma anche prepararsi al meglio fisicamente ma forse anche direttora mentalmente per fare un cammino non so se ti voglio dire qualcosa su questo quale poi ovviamente assolutamente sì ehm bene ti cito un'altra storiella zen di vita vissuta che riguarda uno dei primi cammini che che ho fatto ehm l'ho affrontato con un peso eccessivo quindi è molto importante ricordarci che dobbiamo cercare di puntare ad avere sulle spalle il dieci per cento del nostro peso per cui se eh se pesi come me tra i cinquanta e sessanta chili possono essere sei chili io posso portarne pure sette ma non dieci ma su questo proprio sono categorica per nel senso veramente non si può non si può non si può non si può perché è veramente eh un chilo due chili tre chili una differenza enorme quindi è fondamentale essere molto seri dell'acquisto delle scarpe dei calzini dello zaino queste sono le cose fondamentali per me è fondamentale anche l'uso dei bastoni che alleggeriscono eh caviglie ginocchia bisogna saperli usare bene per scaricare il peso e quindi tutte queste informazioni poi io sicuramente continuerò a darle anche attraverso i miei video e in ogni caso ripeto affidarsi a persone come come me ma come altri che vi ho citato è veramente fondamentale per essere sicuri di tutti questi aspetti che comunque sono anche curati nelle guide quindi va comprata anche la guida del cammino che si fa questo è molto è molto importante terre di mezzo appunto ne ha ne ha pubblicate tantissime e quindi organizzare lo zaino organizzare l'attrezzatura ci sono tanti piccoli segreti come il mio famoso burro che metto i piedi su ria cioè io un burro i piedi sia la mattina che la sera tengo la notte molto spesso i calzini per fare una sorta di impacchi con questi burri con questo burro di karité diciamo che io prendo del del marchio che amo tanto di oli essenziali che uso che è do terra è un batter molto ricco e quindi l'abrasione che poi crea la vescica è dato proprio perché la pelle si spacca e noi dobbiamo ingrassare 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 la pelle il calzino non deve essere troppo sottile la scarpa deve essere abbastanza solida perché se no nelle discese ripi del piede ti frana nella scarpa ma io non uso mai la scarpa alta perché non stiamo facendo un trekking scarpa alta dopo cinque giorni di cammino ha il piede da buttare questa è la mia opinione sono un po rigida c'è chi ha provato con gli scarponi ma io ho visto tanti scarponi mollati proprio abbandonati lungo i cammini e quindi questo per quanto riguarda la preparazione dell'attrezzatura c'è c'è tanto ci sarebbe tantissimo da dire ma questi sono i consigli base a livello mentale la preparazione è una preparazione proprio alla fiducia per cui se vogliamo camminare da soli dobbiamo essere assolutamente rilassati sapere che le esperienze di camminare da soli ci porta a non essere mai soli perché entri in contatto sempre con qualcuno però è molto probabile che in certe situazioni ti potrai incontrare con le tue paure ed ecco la seconda storiella zen storiella che si riferisce a una notte in cui io mi sono svegliata molto presto perché quel giorno avevo tanti chilometri da fare ero agli inizi delle mie esperienze e mi sono messa a camminare quattro e mezza di notte subito dopo l'inizio della mia camminata entro in un bosco un bosco di quelli proprio da Blair Witch Project con i rami messi così e io che stavo con la mia piletta frontale altro utensile molto utile a illuminare questi rami veramente un po' sinistri dopo un po' che camminavo una ventina di minuti nel bosco comincio a sentire un suono un rumore molto impressionante era un soffio un qualcosa che non riuscivo veramente a decodificare faceva tipo così e comincio a pensare quale animale mai potesse essere perché ero io e la natura e quindi comincio a pensare un cervo un cinghiale un cane una mucca niente poteva fare quel suono e quel suono continuava mi seguiva comincio ad avere veramente una certa dose di preoccupazione mi comincio avevo paura a guardarmi intorno perché avevo paura di trovarmi di fronte a qualche essere terribile a un certo punto mi faccio coraggio perché ero veramente spaventata mi comincio a guardare intorno con questa piletta potete immaginare la scena e comincio anche a fare degli urli magari per cercare di spaventare questo essere e fare in modo che si allontanasse ma il suono era lì costante e continuava a seguirmi a ogni passo allo stesso volume non c'era scampo a un certo punto suria ho avuto solo una possibilità se non volevo morire di paura mi dovevo rilassare e quindi ho detto ok qualsiasi cosa sia io siccome sto morendo di paura era passato un'ora e io avevo questo questa cosa che mi camminava alle cinque di mattina vicino io non serve mi devo affidare perché comunque sia perché mi dovrebbe fare del male e mi sono abbandonata mi sono proprio rilassata ho ceduto la paura l'ho rotta è come se avessi attraversato quel muro di paura e si fosse aperto dietro questa paura un rilassamento una calma pazzesca dopo pochi minuti il bosco era finito già cominciava ad albeggiare esco dal bosco mi giro verso destra perché da quella parte la fonte di quel suono era più forte hai presente donkey shot che combatte contro i mulini a vento ovvero sia contro le sue stesse paure erano le pale eoliche io camminavo in un bosco sotto un parco eolico non avrei mai potuto immaginare che fossero pale eoliche poi ho imparato a incontrarle molto spesso a camminarci sotto tante volte io stavo combattendo contro i mulini a vento contro me stessa quindi molto spesso su ria sono soltanto le nostre paure che creano i mostri che creano delle proiezioni incredibili e anche questo è un dono del cammino che bello 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 bellissima questa idea no di affidarsi cioè di prepararsi è un'esperienza cioè se vuoi vivere un'esperienza piena devi poterla abbracciare aprirti completamente a quell'esperienza e così è alla fine così ti fa crescere quella bello anche hai detto anche tante cose appunto su come preparare proprio l'attrezzatura che anche maggio sia fondamentale perché come hai detto se no all'inizio a volte si scrive di fare male avere la giusta attrezzatura sicuramente molto importante mi verbo da dire anche preparazione fisica in termini non so se magari qualcuno ha bisogno di allenarsi nelle camminate prima di fare una camminata questo potrebbe essere un dubbio ecco allora grazie per la domanda io su ria quando qualcuno mi chiede di camminare per cui naturalmente ci sono molte opportunità anche per camminare insieme e con mamma sicuramente cammineremo ancora quest'estate io sono abbastanza severa perché ho avuto delle esperienze molto difficili in cui sono venute delle persone che mi avevano promesso di saper camminare e che non sono state in grado ricordo naturalmente si può tutti possono fare esperienze in cammino io adesso per esempio ho fatto il sentiero del viandante altra stupenda esperienza sul lago di como è un cammino brevissimo 4 5 giorni un pochino più più impegnativo del cammino di Europa ma anche quello è un cammino breve per cui il formato dei cammini brevi ripeto può essere un buon test invece di imbarcarsi in un cammino lungo teniamo conto che i cammini spagnoli che sono i cammini più famosi al mondo i famosi cammini verso santiago sono infinitamente più facili dei cammini italiani perché in italia abbiamo alpi e appennini il successo dei cammini spagnoli è dovuto anche alla loro facilità la loro piattezza e alla loro incredibile organizzazione ma loro hanno 20 anni di vantaggio su di noi comunque per prepararsi al cammino dopo aver scelto il cammino giusto un entry level come dire abbastanza credibile per quello che possono essere le nostre aspettative onneste bene sicuramente un po di test vanno fatti perché io stessa quando qualcuno mi dice voglio venire a camminare con te io chiedo sai che cos'è camminare 20 chilometri non dico 40 20 se non sai che cos'è camminare 20 chilometri testalo e quindi come lo testi lo testi innanzitutto provando anche avere il tuo zaino sulle spalle e non camminando tutti i giorni 20 chilometri ma per esempio camminando tutti i giorni inizi con 5 poi va a 7 poi va a 10 e poi una volta a settimana arrivi a toccare i 20 ma non in pianura quindi ti vai a fare magari l'escursione vicino casa e ti cerchi un'escursione con 600 metri di dislivello non dico mille 600 quindi cominciare il processo di avvicinamento può essere sciogli le gambe cammina in città cammina non con le scarpe da città vestiti già da cammino prova le scarpe ogni tanto mettiti lo zaino con con tutto quello che devi avere comincia a calibrare lo zaino ti rendi conto che è pesante lascia delle cose a casa non portate i medicinali non andiamo nella giungla il cammino non ti porta a stare isolato se hai bisogno di un'aspirina e noi naturalmente non la consigliamo vero suria però voglio dire se vuoi devi prenderti qualcosa la farmacia c'è ok quindi veramente non è necessario fare il kit di medicinali le cose non andiamo in nella foresta amazzonica ma è invece molto interessante cominciare a fare anche dei piccoli strappi quindi allungare la camminata fare magari un trekking una volta a settimana di domenica di sabato arrivando a fare cose di difficoltà media non facile e non difficile media perché il cammino ripeto non è un trekking è un attraversamento della vita in tutti i suoi aspetti ti becchia a volte le periferie che non sono piacevoli ma poi ti guadagni magari la visita di una città meravigliosa per cui è stupenda la natura ma è stupenda anche la vita conoscere la gente che l'attraversa quindi fondamentalmente va bene anche camminare in città allenarsi un po in città ma la pianura non è la dimensione del cammino e la dimensione è il salto che anche a livello metaforico significa tanto quindi in discesa ti sembra che sia tutto più facile poi in realtà in discesa ti puoi anche fare più male ma in realtà dopo una discesa c'è sempre una salita e anche questa è una bella metafora quando scendi c'è che bello sì sì che bello poi per arrivare ai paeselli ai paeselli c'è sempre da salire e quindi impari a goderti la discesa impari a goderti la salita se no non ti godi niente che bello bellissimo davvero certo tantissime cose interessanti tanti consigli pratici molto interessanti ti stimoli sicuramente un'esperienza penso che veramente è assolutamente da consigliare a chiunque perché è una bella esperienza sicuramente ci vuole la giusta preparazione come tu stessa l'hai descritto e appunto come detto c'è tanta possibilità anche di rimanere un attimo in contatto con te di ricevere i tuoi supporti di seguire i tuoi canali quindi sicuramente io ti chiederei come si fa a seguire il tuo lavoro come si pare stare in contatto con te se qualcuno ti vuole chiedere maggiori informazioni assolutamente con piacere anche perché appunto poi può capitare che che vengono a camminare con me persone il cammino fa sì che venga a camminare con te chi il destino ti mette a camminare con te quindi io non chiedo mai a nessuno di venire a camminare con me però capita che vengano delle persone e quando senti questa chiamata anche questo qualcosa di molto spirituale veramente una chiamata cavolo I want to jump voglio saltare in questa cosa allora sì contattami ho ricevuto tantissimi contatti via instagram via via facebook sul mio sito il mondo di abba punto it punto com adesso ci sarà il canale youtube potrà essere molto bello se mi iscrivete dei commenti sul canale youtube e che io possa quindi anche lì il mondo di abba su youtube che io possa avere dei vostri dei vostri feedback quindi io sono assolutamente raggiungibile eccolo la grazie ehm e eh e posso anche indirizzarvi magari a alle mie amiche ai miei amici camminatori che in continuazione creano situazioni e opportunità di cammino per cui voglio citare a volo d'uccello alcuni amici carissimi eh che possono essere anche dei riferimenti autorevoli per voi quindi ad esempio Marcella Frascarelli che è l'amica con cui ho camminato di più cercatela contattate la Marcella la Marcella è la mia fotografa fa delle foto meravigliose e e e sicuramente se chiedete a lei è sempre molto molto disponibile e felice di darvi consigli Maria Gaia Soana eh Gaia professoressa di di finanza una 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 ragazza fantastica che però come come me si trasforma poi quando deve camminare e poi c'è eh un'altra persona assolutamente valida nella zona del Friuli con cui ho camminato in Friuli è Valentina Danelon quindi queste sono amiche carissime ma gli stessi come vi dicevo Alberto Renzi Gian Piero Pinna per per la Sardegna segue tutto quello che succede in Sardegna Davide Comunale Simone Frignani eh Angela Maria Serracchioli naturalmente Gigi Bettin eh Alberto Conte solo per citarvi ricitarvi un po' di questi nomi ma eh sono pochi perché poi ci sono sicuramente da aggiungere anche i canali ad esempio della rete nazionale donne in cammino di Ilaria Canale che tu hai già citato che ha creato questa community di decine e decine di migliaia di donne che camminano che vogliono informazioni e anche il gruppo ragazze in gamba di cui appunto per entrambi sono sono testimonial quindi loro sicuramente poi c'è la rete dei cammini nel Lazio ho fatto questa esperienza stupenda che è diventato anche un ciclo di podcast per Radio 3 di prossima uscita è il mio primo risultato se vuoi anche su su Radio 3 di un riconoscimento se vuoi anche proprio dell'attività eh di camminatrice e quindi sono molto contenta di poter portare i racconti di cammino anche su un canale culturale come Radio 3 e Andrea Morbidelli quindi della rete eh dei cammini del Lazio è attivissimo con una rete straordinaria di volontari Francesco Senatore Paolo Piacentini insomma sono tanti tantissimi amici per fortuna ci sono persone anche nel mondo delle istituzioni dal ministro Franceschini a Alessandro Sabella che è l'assessore al turismo di Pistoia che fa delle cose pazzesche nella montagna pistoiese Silvio Marino il nostro referente per la regione Lazio vedi quante persone in realtà è una squadra molto più numerosa ma ci conosciamo tutti e per cui eh guarda è veramente facile tra una pateca all'alto sì bellissimo 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 quindi chi vuole rimanere con te appunto in contatto c'è questo sito c'è il tuo canale youtube che sta aprendo con lo stesso nome c'è il tuo nome quindi basta penso cercare per fortuna nell'epoca di internet basta cercare il tuo nome Abba Valentina Lo Surdo e ti si trova facilmente io ti ringrazio ancora perché veramente c'è stato tantissime informazioni interessanti di valore che potranno essere ascoltate domani quando verrà pubblicata anche la registrazione anche tutti questi nomi che adesso hai fatto di nuovo questa carrellata che chiunque si può andare a cercare con tutti questi riferimenti che assolutamente sono utili quando si inizia a organizzare un cammino io ti ringrazio tantissimo per tutte le informazioni appunto che condiviso con noi stasera direi che stiamo arrivando anche alla fine è stato un super piacere averti come ospite questa diretta poi sempre ci conosciamo da tanti anni è sempre un piacere grazie io posso dare appuntamento se vuoi suria a tutti quanti se sicuramente farò di tutto per esserci dovrei esserci l'ho saputo ieri ma ci sarà la marcia solidale nelle terre mutate quindi in una zona del terremoto del centro Italia dal 14 al 17 di luglio 14 15 16 17 è un evento rituale che si fa tutti gli anni ho partecipato già nel 2019 ed è veramente qualcosa di meraviglioso rimanete in contatto dunque con questo nome movimento tellurico che organizza questa consonanza tra il movimento sociale del cammino e i movimenti del terremoto e quindi cammini appunto di testimonianza sociale quindi la marcia nelle terre mutate quest'anno sarà dal 14 al 17 luglio forse verrà pure mamma ci stiamo organizzando io penso di esserci e potrà essere un entry level veramente fantastico per cominciare a familiarizzare anche camminando con tante persone per cui ci saranno anche tanti esperti camminatori ma suria guarda bastano tre giorni di cammino per 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 avere il cammino dentro la trasformazione è molto veloce sai che si dice spesso che ci vogliono 28 giorni noi famosi 28 giorni eccetera per tante pratiche per trasformare una novità in un'abitudine il cammino è è talmente un'esperienza totalizzante perché non fai una pratica formale per per mezz'ora un'ora eccetera ma sei lì che cammini 4 5 6 8 ore che dopo due giorni sei un camminatore che meraviglia che meraviglia grazie ancora bene grazie anche a tutti per essere stati con noi in questa serata aver passato questa bella serata insieme io vi ricordo che ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta per intervistare i maggiori esperti italiani di crescita personale spirituale ci vediamo mercoledì prossimo buonissima serata a tutti ciao